Buongiorno a tutti, eccoci qui per il video che, numeri alla mano, è il più atteso di tutta la settimana, quello di riepilogo di tutti i principali indici mondiali e dell'intero Fuzzimib. Come molti di voi hanno già appreso, ho comunicato in diretta su Classi MC nella trasmissione analisi tecnica la volontà di continuare il canale almeno per un altro anno. È stata una scelta molto sofferta perché non vi voglio nascondere che in questo 2023 indubbiamente il canale ha tolto spazio anche al mio trading, perché comunque dovete pensare che oltre a documentarsi un minimo, ma in questo sono sicuramente favorito dal fatto che tutti i giorni trado il mercato, per cui tante cose che poi commento con voi le ho già vissute qualche ora prima, ma soprattutto è tutto quello che ne consegue registrare il video, montarlo, caricarlo sul canale, rispondere ai vostri messaggi. E ho voluto ugualmente, nonostante a me sia costato molto in termini economici questo sacrificio, proseguire ancora per il 2024 perché volevo vedere se questo canale avrà la possibilità di raggiungere i risultati che mi sono prefissato. Come vi ho già detto ho parlato di 10.000 iscritti. In realtà i 10.000 iscritti sono un target molto ambizioso, ma quello che mi interessa maggiormente sono ovviamente le visualizzazioni, perché come immagino saprete a livello di YouTube ci sono molti che comprano anche gli iscritti, che ovviamente me ne sono sempre ben guardato. Per cui il passaparola che molti di voi hanno pensato di fare, magari tra i propri amici, tra i propri conoscenti, è ovviamente ben gradito, però se questi si interessano di finanza. Perché avere tanti iscritti e poi che nessuno guardi i video sinceramente è fine a se stesso. Molti di voi mi hanno detto anche che quello che ho fatto è un vero regalo di Natale. Io non vi ho mai chiesto nulla in questo anno e due mesi che siamo insieme. Questa volta però vorrei anch'io da parte vostra un regalo di Natale. Vorrei che questo video fosse il più visto di tutto il 2023, con il maggior numero di like e con una crescita degli iscritti anche e soprattutto da parte di coloro, sono circa un 25%, che continuano a guardare regolarmente questo canale ma non si iscrivono. Iscrizione al canale, un like, non costano nulla. E possono invece aiutare a far crescere questo canale e a farmi pentire meno della scelta che ho fatto di continuare anche per il 2024, perché ho dovuto anche razionalizzare i miei impegni, perché non posso permettermi un 2023, un 2024 come il 2023, nel senso che il canale mi ha assorbito davvero tanto. Non perdiamo però ulteriore tempo e vi condivido subito lo schermo, perché dobbiamo partire dagli indici americani come nostro solito. In questa settimana cosa è accaduto? C'è stata una leggera positività degli indici americani, una leggera negatività degli indici europei, solo il Futsi Mibfuture si è salvato, mi pare poi lo vedremo magari assieme, come ho fatto controllo prima, scusate, 1,015, e continua, e questa è la buona notizia, il trend che vi avevo già anticipato da alcune settimane, della sovraperformance di Midcap e Star rispetto a Futsi Mibfuture. E credo che questa sovraperformance continuerà ancora, almeno da mercoledì a venerdì, che sono le ultime tre sedute dell'anno, e comunque continuerà, anche se con dinamiche diverse, a mio avviso anche nel 2024. Partiamo dal Dow Jones. Vedete che siamo in una fase di trading range. Tra l'altro, la seduta di ieri ha avuto un range piuttosto stretto, 37.268, 37.534. Se vi ricordate, qualche giorno fa vi avevo detto che probabilmente il minimo di breve periodo poteva essere questo 37.051, e potrebbe essere anche così, perché mi è stato chiesto, so benissimo che è il video meno seguito, quello del podcast, però ho espresso ieri un concetto, Next Economy, su Giornale Radio, a mio avviso molto valido, ovvero di fronte a una domanda di Manuela Donghi, che mi chiedeva cosa aspettarsi di qui a fine anno, ovviamente lo status quo, perché se sono un gestore che ho una performance positiva del 20%, sulla quale prenderò una commissione, non ho il minimo interesse di rischiare e di conseguenza assisteremo a un ulteriore calo dei volumi, almeno per le prossime trasidute sul mercato azionale italiano, ma sarà ovviamente un mercato anche povero di scambi, quello fino all'epifania, a mio avviso, ed è per questo motivo che il 37.051 potrebbe tenere fino a fine anno, nell'anno nuovo invece è più probabile un ritracciamento, direi 36.523 e poi 36.000, questo è un ritracciamento semplicemente da ipercomprato, per cui se noi dobbiamo fare un ragionamento di medio-lungo periodo, io l'ho già detto più volte, mi aspetto un 2024, ovviamente molto più sottotono rispetto al 2023. Per questa prima fase di correzione che dovrebbe svilupparsi all'inizio del 2024, credo che sarà una correzione tutto sommato modesta. Standard & Poor's 500, vedete che qui abbiamo una situazione al momento leggermente migliore rispetto a quella del Dow, perché sembra ci sia la volontà di provare a rompere al rialzo i massimi di periodo di 4.778. Di conseguenza il minimo di 4.694 del 14 dicembre potrebbe essere un minimo almeno di qui a fine anno. A differenza però del Dow Jones, lo Standard & Poor's 500 ha il limite di non aver ancora ritestato i massimi storici che sono stati a 4.818. Potrebbe anche riuscirci nella prossima settimana. Io credo che il minimo di 4.694 terrà, come vi ho detto poco fa, ma che poi a partire da gennaio anche per lo Standard & Poor's 500 potrà esserci un ritracciamento a 4.643, 4.643, 4.608, 4.593. Veniamo adesso al Nasdaq Composite. Il Nasdaq Composite è un po' nella situazione tecnica in cui è lo Standard & Poor's 500. Ha la possibilità di rompere i massimi di periodo di 15.069, qui abbiamo però già visto che molto difficilmente riuscirà a raggiungere i massimi storici che sono stati a 16.212, probabilmente si fermerà a 15.319. Poi, come per Dow e Standard & Poor's, il ritracciamento dovrebbe cominciare nel 2024 con un primo obiettivo 14.776, poi 14.753, quindi 14.642, 14.517. Oltre al Dow Jones, l'unico altro indice americano che ha toccato nuovi massimi storici nell'ultimo periodo, nell'ultima settimana, i Dow addirittura li ha fatti in sequenza, è il Nasdaq 100, che ha fatto un nuovo massimo storico mercoledì a 16.860. Potrebbe fare ancora un breakout a rialzo e quindi fare nuovi massimi storici. Anche qui sono stato sempre molto chiaro, molti miei colleghi riescono a tracciare un canale, ribaltarlo, darvi target. Io sono per un trading basico. Se un indice, un sottostante, mi fa un nuovo massimo storico, sinceramente non so dirvi dove arriverà. Di certo so che comunque non devo mettermi long, scusate short, su un indice che dà solo segnali long, che è lo stesso principio per cui non devo tenere in portafoglio un sottostante, magari un'azione che fa un nuovo minimo storico, io ce l'ho long, devo prendermi il mio stop perché non so dove materialmente potrà arrivare. Per quanto riguarda invece il supporto, il livello più importante, proprio il minimo di mercoledì 16.552, credo che di qui a fine anno questo livello tenga poi, come per Dow Standard & Poor's e Nasdaq Composite, 16.419-16.357 sia un po' il minimo sindacale, ma lo vedremo poi giorno per giorno. Non faccio Russell, vi posso dire che ovviamente è stato un indice che questa settimana ha fatto meglio negli Stati Uniti, come Mid Cap e Star sono gli indici che hanno fatto meglio sul mercato azionale italiano. Veniamo al DAX. Ecco il DAX, nonostante non abbia dato ancora un segnale così negativo, la mia idea, vedendo indicatori oscillatori, è che possa rompere 16.595 per andare a 16.536, poi 16.394-16.386. Cosa potrebbe accadere però? Che questa rottura venga fatta non questa settimana, nella settimana entrante, ma magari o nella prima di gennaio o nella seconda di gennaio. Vediamo che per esempio il DAX ha già rotto la rialzista partita dai minimi del primo di novembre. Caccarant è più o meno nella stessa situazione anche se devo dire che per quanto riguarda il DAX la possibilità di breakout ribassista è più concreta. La ritengo un po' meno probabile per il Caccarant ma anche qui in caso di chiusura sotto 7.529 andremo subito a 7.437, poi 7.415-7.384. Veniamo all'Eurostox. Eurostox è una situazione sicuramente a mio avviso di inizio distribuzione, quindi il primo obiettivo per me è 4.477, poi 4.465-4.458. Rimane un micro gap da chiudere a 4.457 sul massimo del 5 di dicembre. Eurostox banks qui nonostante ci sia stata una seduta piuttosto positiva ieri perché ha fatto più 0.44 rimane sempre l'IDIA base che è il trading range 116.94-119.71 però anche per l'Eurostox banks secondo me è più probabile una rottura a ribasso 116.47-116.1 eventualmente 114.89 e poi il minimo del 28 di novembre che è 114.15. Ovviamente anche per l'Eurostox questa eventualità è più probabile avvenga già con l'anno nuovo non tanto nella prossima settimana. Come sapete il sabato facciamo anche Fuzzicento e facciamo anche IBEX 35. Fuzzicento devo dire bene finalmente è già qualche settimana che si è diciamo impostato a salire ha fatto un massimo di breve periodo a 7.762 nella seduta di mercoledì e direi che può proseguire ancora a rialzo con aspettate che faccio un attimo così così vedete un pochettino meglio e 7.804 che è il massimo del 16 di maggio poi 7.819 massimo del 3 di maggio quindi devo dire che se su DAX e CAC anche su Eurostox Eurostox Banks vedo qualche pericolo di ritracciamento al momento non vedo la stessa cosa sul Fuzzicento. Per quanto riguarda invece l'IBEX 35 è qui sì c'è ovviamente il trading range vedete molto nitido 10.000 0.18 10.301 però anche qui indicatori e oscillatori mi fanno pensare che se non nella prossima settimana a partire da inizio 2024 possa ritracciare fino a 9.919 ovviamente 9.901 poi 9.847 facciamo anche ovviamente Nikkei e Hang Seng Nikkei trading range piuttosto nitido direi tra 32.205 e 33.853 c'era stato questo rimbalzo a mio avviso per le decisioni della Banca Centrale giapponese che ha mantenuto la politica accomodante al momento ritengo che possa provare già a fare una base qui sui 33.100 come area 33.097 è il minimo e potrebbe anche provare una rottura dei massimi il Nikkei però vedremo perché è comunque uno degli indici mondiali che ha la miglior performance da inizio anno siamo a più 27% per cui è comunque un po' tirato concludo con Langseng che invece se vi ricordate è quello che tra tutti gli indici che analizziamo sta facendo più fatica pensate che da inizio anno è a meno 17.4 soprattutto la seduta di venerdì è davvero molto molto negativa perché fa un engulfing bearish con massimo a 16.857 poi chiude a 16.340 e comunque anche se non credo che perderà i minimi di periodo ovvero 15.972 potrebbe tornare anche a 16.145 prima eventualmente di rimbalzare e poter tornare sulla media mobile a 50 17.157 massimo il 29 novembre 17.359 siccome è l'ultima settimana di CNH sul listino italiano è già uscita dal Fuzzimib questa settimana faremo 41 titoli del Fuzzimib tra virgolette ovviamente sono 40 entrato cucinelli al posto di CNH perché io come vi ho già detto per non saperneggere scrivere questa settimana che viene uscirò dal titolo anche perché è un prezzo di carico a 9.40 A2A sta confermando quanto vi avevo già detto ovvero titolo che continua la fase di correzione è arrivata praticamente sulla media mobile a 50 1.857 ha fatto un minimo ieri a 1.854 ma chiusura a 1.859 prossimi obiettivi 1.826 1.782 considerate che poco sopra c'è anche la media mobile a 100 che 1.792 Amplifon ecco qui Amplifon è in una situazione sicuramente molto interessante perché è in un training range molto stretto tra 30 89 e 31 98 quindi è un training range praticamente di poco più di un euro sicuramente training range così stretti implicano un forte movimento direzionale se sarà rialzo il titolo potrà raggiungere 33 23 poi 33 59 quindi 33 72 in caso di rottura a ribasso c'è anche un piccolo baluardo rappresentato dalla media mobile a 200 30 30 69 perché dico piccolo perché presumibilmente rimarrà ancora qualche seduta in questo training range se mi rompe 30 89 che mi vada a far base a 30 69 lo ritengo un po' difficile per cui a quel punto potrebbe arrivare a 29 51 che è sia il minimo del 13 dicembre che il massimo del 12 dicembre tra l'altro prima di mettermi a registrare il video sapete che io improvviso tutto perché qui viene fuori un po' la mia presunzione perché sono convinto che chi trada con denaro reale tutti i giorni sul mercato non ha bisogno di approfondire più di tanto perché le situazioni che io vi sto commentando vi sto analizzando le vivo quotidianamente però ci sono ovviamente dei dati che mi possono servire per potervi confezionare un prodotto migliore in questo caso devo dirvi che e la cosa non mi stupisce il CFO della società ha venduto 3000 azioni questa settimana perché ovviamente il titolo è su livelli sicuramente molto tirati e soprattutto come vi ho già detto a livelli a livello di fondamentali ha dei delle valutazioni piuttosto generose azimut ieri io ho mancato lo spike perché cerco di coprire tutti gli spike possibili e azimut poteva essere un titolo da spike per un semplice motivo che è talmente tirata che qualche ritracciamento lo può anche fare e a quel punto direi che se vado però a posteriori quindi serve a poco se uno fa trading a giudicare il minimo di ieri rispetto a questa rialzista partita dai minimi del 26 di ottobre devo dire che oggettivamente ci stava la grande un tentativo io non vi nascondo che le prime le avevo un tic sopra 23 quindi tardo pomeriggio questo bellissimo spike 23 15 subito denaro a 23 54 23 55 però attenzione che nonostante la chiusura 23.6 e quindi un hanging man potrebbe il titolo essere in un principio di distribuzione per cui arrivare prima a 23 poi a chiusura gap a 22 e 94 quindi minimo del 13 dicembre 22 76 quindi 22 e 59 banche generali anche banche generali può essere a rischio rottura ribasso anche se per il momento la tesi prevalente deve essere ovviamente quella del trading range 33 22 34 punto 2 in caso di rottura di 33 punto 22 primo obiettivo 32 punto 88 poi media mobile a 100 che è 32 punto 70 quindi 32 punto 61 minimo del 6 di dicembre banca mediolanum anche qui vedo un principio di distribuzione con un primo obiettivo a 8 37 e mezzo poi si può arrivare a 8 25 e 2 che è il minimo di questa Marbozo White dell'11 di dicembre quindi poco sotto ci sono prima la media mobile a 200 ovvero 8 21 e 7 poi la media mobile a 100 8 e 18 Montepaschi allora Montepaschi sta provando a fare base praticamente su un'area di prezzo che è vicinissima al chiamiamolo ABB del MEF perché è avvenuto a 2,92 al momento sicuramente è in trading range direi 2,93 3,117 io nonostante si stia portando nella parte alta del range se devo guardare indicatori oscillatori ritengo più probabile un ritorno sulla media mobile a 50 287 e poi sul minimo del 21 di novembre 2,807 poi proseguiamo con Banco BPM allora Banco BPM è in una situazione devo dire di pericolo perché è veramente su supporti molto molto importanti perché ieri ha rimbalzato dalla media mobile a 100 4,69 4 chiudendo a 4,76 e 6 però aveva fatto un minimo a 4,66 e 2 ma anche qui vedendo indicatori oscillatori non mi stupirebbe un ritorno in area 4,58 e poi sul minimo del 4 di ottobre 4,45 e 8 rimane ancora valida l'ipotesi tra il range direi 4,66 e 2 4,84 e 8 BPR invece devo dire che è paradossalmente ancora più a rischio perché effettivamente mi sembra possa tornare almeno a 2,97 poi a 2,88 e 6 e direi quindi 2,83 e 6 però attenzione perché comunque ieri fa un hammer rimbalza praticamente dalla media mobile a 100 che è 3,008 il minimo è 2,99 1 e potrebbe anche riuscire a rimbalzare fino a 3,138 Brunello Cucinelli qui invece l'impostazione tecnica è addirittura per provare a rompere a rialzo il massimo di periodo che è 88,7 dobbiamo mettere un time frame settimanale per vedere che il primo obiettivo è 91,1 poi 93,35 quindi il massimo storico di 95 attenzione perché vi ho detto già tante volte che l'analisi tecnica parla di ulteriori possibili rialzi però in realtà c'è un problema legato ai multipli che sono davvero da titolo quasi tecnologico americano in bolla Campari come sapete io continuo a mantenere il titolo sta avendo un rialzo un rimbalzo ancora piuttosto lento non ha ancora rotto la trendline ribassista partita dai massimi dell'11 di ottobre il primo obiettivo è 10,42 e mezzo poi c'è praticamente a 10,43 la media mobile a 50 area 10,50 e quindi come vi ho detto io penso possa arrivare fino a 10,80 avendo un micro gap da chiudere sul minimo del 9 di novembre che è 10,82 poi CNH industrial mi dispiace molto aver preso questa decisione però io ho deciso di non saperne leggere scrivere e di chiudere il titolo nella prossima settimana perché non ho ancora sentito vi giuro una voce univoca di quello che accadrà magari scrivetelo nei commenti perché io non voglio trovarmi un titolo con l'ISIN americano se fosse unISIN dell'MTA International mi andrebbe bene allora potrei anche valutare adesso cercherò non ho ancora avuto tempo di approfondire la questione magari domani che ho tra virgolette la fortuna che la mia compagna essendo la vigilia ha il negozio aperto per cui posso venire in ufficio e dedicare un po' di tempo anche ai miei studi però l'idea è di uscire dal titolo è un peccato perché è un titolo che ha ancora spazio 11 massimo del 7 di novembre media mobile a 100 11 e 10 poi direi massimo del 18 di ottobre 11 e 23 quindi direi 11 e 59 massimo dell'11 di ottobre questo però è una questa però è un'analisi se il titolo rimanesse ovviamente quotato anche in gennaio invece farà ancora credo le ultime tre sedute quindi sarei già contento potesse arrivare anche a 11 11 e 11 dove c'è la media mobile a 100 di Assori il titolo si è ripreso ieri è stata respinta dalla media mobile a 293.64 massimo in 3 94-98 chiusura 93-52 vi ho già detto che vedo un target almeno fino a 97.42 massimo del 15 di dicembre Enel ecco Enel devo dire che mi sta sorprendendo perché è vero che continua a stare in questo turning range piuttosto stretto tra 6,62 e 6,77 però non sono lo dico chiaramente più così sicuro che voglia rompere a ribasso e quindi tornare a 6,57 e mezzo a un micro gap a 6,56 e 8 sul massimo del 12 dicembre poi 6,49 6 massimo minimo scusate dell'11 dicembre quindi vediamo in caso di breakout al rialzo dove può arrivare il titolo direi 6,96 poi eventualmente 7,24 e 6 qui si apre una riflessione poi se avrò il tempo comunque vorrei fare un video con delle previsioni per il 2024 perché è giusto che chi ha la mia esperienza ci metta come si dice la faccia e si esponga anche possibili brutte figure ma qualche indicazione interessante penso immodestamente dopo oltre 20 anni di esperienza nel settore di potervela dare e ovviamente alla regola se finalmente sarà un mercato più lineare rispetto a questo del 2023 le utilities potrebbero essere sicuramente un settore trainante perché perché tolta Enel che fa più che altro proprio indice si dice fa paniere per cui se fa più 20 il Futsimib Enel è difficile che faccia meno 10 diamo uno sguardo quest'anno Enel ha fatto più 33 e mezzo ok però attenzione che siccome il vero problema come già detto in tutte le lingue del mondo è il debito se inizia una seria politica di taglio dei tassi potrebbe essere che Enel sorprenda e torni su livelli decisamente più importanti magari anche fino aspettate che prendo quella giusta che è questa fino a area 8 questo è un 8 042 eventualmente fino a 8 75 perché sicuramente se rotazione settoriale ci sarà è molto probabile sia tra bancari e utilities ovvero verranno abbandonati un po' i bancari verranno comprati le utilities ENI vi dico mi sta a dir poco sorprendendo perché comunque non mi sembra che il VTI questa settimana abbia fatto chissà quali numeri e di periodo comunque dai massimi ha corretto molto ENI sembra veramente impermeabile per cui 15.40 15.47 e mezzo poi 15.80 15.83 i prossimi obiettivi e vi dico non me lo so spiegare ma bene per chi ha il titolo un altro titolo molto forte di periodo è ERG direi che praticamente siamo arrivati grosso modo a target 28.72 ieri ha fatto 28.68 poi c'è 29.12 massimo del 6 di aprile oltre non è che non possa andare perché basta allargare il grafico abbiamo è ovvio dei target ancora più ambiziosi tipo il 29.74 massimo il 3 gennaio però attenzione perché poi probabilmente il rischio bull trap diventerebbe molto molto alto Ferrari qui credo di aver avuto tra i primi una lettura molto corretta di quello che stava per accadere e il titolo è praticamente arrivato a target quasi a target perché diciamo che manca veramente poco perché ha fatto un minimo ieri a 304.2 il gap da chiudere sul massimo del 2 novembre è 303.8 però attenzione perché potrebbe non bastare cosa intendo dire che potrebbe andare a testare la media mobile a 100 299 75 poi tornare a 287.2 che è il minimo del 2 novembre e quindi media mobile a 200 285.11 Fineco allora Fineco è in trading range il trading range è piuttosto definito compreso tra 13.18.5 e 13.85 non credo in questo momento possa andare a testare i massimi di periodo del primo di agosto di 14.30 al contrario ritengo più probabile una perdita di 13.18.5 con un primo obiettivo 12.83.5 quindi 12.76.5 quindi media mobile a 200 12.64.5 generali generali al contrario sembra abbia voglia di provare a rompere questa resistenza statica di poco sotto 19.30 con un primo obiettivo a 19.48 e mezzo poi c'è un micro gap da chiudere a 19.58 e mezzo il massimo della stessa seduta del 16 novembre 19.77 e poi direi completamento di questo movimento 20.05 20.06 era anche era ha una configurazione tecnica simile a quella di Enel è in range piuttosto stretto sui massimi di periodo tra l'altro la prima candela del range quella del 14 dicembre contiene tutte le successive per cui 2.97 3.036 e qua vale un po' quello che è stato detto per Enel ovvero c'è la possibilità di rottura a rialzo qui in effetti c'è una resistenza fortissima che è su time frame settimanale 3.076 perché dico fortissima perché se venisse confermata questa rottura addirittura ci sarebbe spazio fino al massimo della seconda settimana di giugno del 2022 3.38 e mezzo al contrario in caso di rottura di 2.97 a quel punto 2.91 e 4 2.90 come area primo obiettivo poi eventualmente si potrebbe arrivare a 2.86 2.84 e 4 diciamo che Enel mi dà maggiore affidamento rispetto a era per un eventuale breakout a rialzo io continuo a detenere ancora nel mio portafoglio di medio lungo periodo Interpam è al momento respinta dall'ancora respinta dalla media mobile a 200 46.95 il massimo di breve periodo è stato 47.29 la mia idea è che Interpam possa riuscire a rompere questa resistenza e andare fino a 50 che è il massimo del 4 di agosto è ovvio che bisogna sempre avere il piano B per cui già sotto 45.5 probabilmente il titolo andrebbe chiuso ci si può dare la chiusura gap 45.18 per cui va a chiudere il gap continua a proseguire il ribasso e a quel punto ci chiudiamo intesa anche intesa a un trading range piuttosto stretto direi 2.61.3 2.66.05 quindi il movimento di rottura a rialzo o a ribasso sarà necessariamente più si prolungano le sedute molto direzionale in caso di rottura a ribasso avremo un primo obiettivo a 2.59.25 poi qui c'è un 2.58.65 sul minimo del 27 di novembre media mobile a 50 2.56.5 minimo del 24 di novembre tra l'altro è 2.56.7 poi minimo del 21 di novembre 2.51.6 in with ah scusatemi ecco ovviamente in caso di rottura a rialzo può arrivare fino a 2.71.6 in with qui ci troviamo in una situazione molto simile a interpump perché il titolo sta facendo fatica a rompere la media mobile a 200 ovvero 11.49.5 ieri in realtà chiude a 11.50 però diciamo che la chiara rottura a rialzo sarebbe sopra 11.60 con un primo obiettivo a 11.84 e poi probabilmente 12.01 però io credo che sia a rischio di ritornare almeno sulla parte bassa del range per cui 11.18 11.17.5 e in caso di rottura potrebbe andare almeno fino alla media mobile a 100 11.05 11.06.5 Italgas ecco Italgas invece nonostante sia intrading range e nonostante stia costruendo un importante supporto statico qui tra 5.14 e mezzo 5.16 indicatori oscillatori mi fanno temere per una rottura a ribasso con primo obiettivo 5.11 e mezzo poi media mobile a 100 che è 5.055 quindi 5.015 la media mobile a 50 tra l'altro è 5.005 se il supporto tiene comunque molto difficilmente riuscirà a andare oltre 5.30 e mezzo avendo su quegli stessi livelli all'incirca la media mobile a 200 Iveco ecco Iveco continuo a mantenerla nel mio portafoglio di medio lungo periodo nonostante adesso stia facendo un po' più fatica credo che possa arrivare a 8.12 e 6 poi media mobile a 200 8.17 e 9 quindi il massimo del 20 di ottobre è che 8.26 e 4 poco sopra c'è un minimo a 8.28 8.19 di ottobre che è anche micro gap lasciato aperto e potrebbe ovviamente andarlo a chiudere Leonardo Leonardo invece devo dire che è vero che avevo capito quella fase di correzione da area 15 fino a 13.48 però graficamente ancora pronta per rompere al rialzo fare una sorta di uncino di rossa riportarsi sui massimi di periodo quindi in realtà 14.99 e mezzo 15.01 poi il solito discorso vi devo far vedere il mensile perché è vero che c'è un 15.09 sul massimo di novembre 2017 però potrebbe anche arrivare a 16.06 16.11 proseguiamo con Mediobanca anche Mediobanca è ancora nel mio portafoglio di medio lungo periodo ha rotto ieri la media mobile a 50 11.186 ha fatto tra l'altro una bella marmozzo white direi che può andare fino sulla media mobile a 11.163 a chiudere il gap è stato aperto sul minimo il 17 di novembre 11.73 Moncler titolo da trading range in questa fase range compreso tra 53.7 e 56.96 credo che continuerà a muoversi all'interno di questo range almeno di qui fino a fine anno eventualmente se dovesse rompere il rialzo quindi superare 56.96 non credo potrebbe andare oltre 58.18 Nexi io continuo a mantenere anche Nexi nel mio portafoglio di medio lungo periodo però vi ho detto già che al momento mi aspetto di più un rischio di distribuzione per cui sotto 7.27 8 7.20 7.14 4 poi 7.034 media mobile a 200 direi 6.962 ovviamente se fossi smentito e dovesse riuscire a rompere 7.526 c'è sempre il target relativo al massimo del primo di agosto che è 7.93 Pirelli molto bene perché continua a rimanere in area di massimi di periodo direi trading range tra 4.747 e 4.938 e sembra nonostante la doge di ieri volersi riportare sui massimi di periodo che sono 4.938 la rottura di questi livelli sarebbe comunque particolarmente importante perché si aprirebbe subito spazio fino a 5.046 5.058 poste italiane altro titolo che sembra voler chiudere l'anno in area massimi di periodo ovvero riportarsi prima a 10.34 poi a 10.43 e quindi a 10.57 che è il massimo della shooting star del 25 di luglio scorso prismian portissima c'è stata la grande occasione che io ho mancato perché sicuramente sono un po' diciamo anch'io come i gestori ho fatto meno bene del solito ma comunque ho ottenuto un risultato moderatamente positivo anche per quest'anno ed è il quattordicesimo anno di fila non perdo dal 2008 scusate faccio gli scongiuri e ho mancato però clamorosamente lo spike di giovedì a 39.33 tra l'altro poi in titolo ha chiuso di tour a 40.69 e ieri ha fatto un massimo a 40.99 per cui ennesimi nuovi massimi storici è ovvio che chi ha il titolo è giusto che se lo tenga entrare adesso è comunque molto pericoloso non è neanche facilissimo gestire uno stop profit al momento su Prismian io direi che si potrebbe magari l'ex gap a 39.84 e riguardare il titolo non prima di area 39 ricordati ricordati continua a stare sui massimi di periodo mettiamo un attimo un settimanale per capire quali potrebbero essere i prossimi obiettivi 48.71 49.28 e poi 49.83 Saipem Saipem me la chiedete davvero in tanti e direi che adesso sembra poter ritornare prima sulla media mobile a 100 1.46 6.6 poi c'è l'1 47.35 massimo del 7 dicembre poi c'è quest'area 1.51 quindi sono moderatamente positivo su Saipem Snam rete gas grafico che assomiglia molto a Italgas sì c'è questo tentativo di base poco sopra 4.60 per cui può ancora avere un senso parlare di trading range ma mettiamoci guardate 4.608 ecco che è il minimo importante del primo di dicembre diciamo che il trading range 4.608 4.76 è ancora valido però l'obiettivo di questo movimento a mio avviso è quello come ho già detto per Italgas di una rottura a ribasso con primo obiettivo media mobile a 100 4.56 e mezzo poi 4.54 e mezzo 4.52 e mezzo che è il minimo del 29 di novembre quindi media mobile a 50 che è poco sotto a 4.51 e 6 Stellantis ecco Stellantis è veramente incredibile vi ho già detto anche questa settimana delle vendite delle udenti in Europa a livello di matricolazioni della quota di mercato scesa poco sopra il 15% però il titolo è ancora resiliente vedo però un'interessante divergenza ribassista su RSI è un inizio divergenza ribassista su MACD quindi più o meno direi che adesso si può ancora parlare di trading range 20.68 e mezzo 21.89 e mezzo scusate ma il rischio di rottura ribasso e di riportarsi a 20.50 e mezzo chiusura gap a 20.46 e mezzo e poi sul minimo del 5 dicembre 20.1 è ovviamente piuttosto concreto non credo che in questa fase potrà andare a fare ennesimi nuovi massimi storici sopra 21.89 e mezzo STM ancora titolo che rimane in questo trading range tra 44.88 e 47.01 potrebbe restarci anche per tutta la prossima settimana però a breve vedo più probabile un breakout a ribasso con primo obiettivo 44.205 poi 43.33 quindi media mobile a 200 ovvero 42.86 Telecom io l'ho mantenuta però devo dire la verità che ieri ha fatto una brutta shooting star è vero che parliamo dell'ordinaria poi domani sicuramente tratteremo anche della risparmio ha quasi raggiunto un target veramente importante 0.31 42 ha fatto comunque 0.30 85 però chiuso a 0.30 quindi io dovrò iniziare a ragionare in ottica stop profit al momento lo metterò sotto 0.29 27 e tornerò a guardare il titolo solo da 0.28 0.4 in giù Tenaris vale il discorso fatto per Eni titoli resilienti rispetto alla debolezza del petrolio 16.2 è il primo obiettivo poi 16.43 e mezzo quindi il massimo del 6 di novembre 16.73 e 8 poi Terna ecco Terna la vedo leggermente meglio rispetto a Italgas e Snammers e Gas innanzitutto ha recuperato la media mobile a 200 giovedì ha confermato anche ieri e adesso è in un trading range compreso tra 7.502 e 7.742 e sembra voler andare nella parte alta del range Unicredit allora qui come vi ho già fatto vedere o comunque vi ho ricordato più di una volta il buyback è decisamente condizionante per l'andamento del titolo nella Fazzispecie la settimana scorsa giovedì e venerdì in entrambe le sedute sono stati comprati più di 2 milioni di pezzi ora questa settimana essendo crollati i volumi poi chiuderemo appunto con i volumi è molto difficile che ci possa essere stato un acquisto o ci possano stati degli acquisti di entità così importante adesso si trova in un trading range tra 23 e 48 e 24 85 e mezzo sembra voler andare nella parte alta del range eventualmente chiudere il gap lasciato aperto sul minimo del 13 dicembre 24.975 non vedo unicredit ritornare sui massimi pluriennali che ha toccato il 6 di dicembre a 25.78 unipol invece situazione ben più complicata adesso sembra voler arrivare a 5.076 5.04 la media mobile a 205.037 poi 5.008 4.99 eventualmente 4.954 minimo del 5 di ottobre volumi dicevamo a livello di futures vedete sono letteralmente crollati perché non c'è stata una seduta nelle ultime 3 anzi direi nelle ultime 5 che abbia fatto volumi significativi la seduta in cui ha scambiato di più è la seduta di martedì quando ha fatto 11.891 contratti ma non mi aspettavo diversamente per questa fase abbiamo toccato anche un minimo di periodo per i volumi scambiati 1.398 e il range più o meno è sempre lo stesso perché nelle aste finali viene sempre fatto almeno il 25 barra 30% dei volumi giornalieri e questo è ovviamente un problema enorme per il mercato in continua dove ci sono scambi effettivamente troppo troppo ridotti per questa giornata ho terminato ci aspetta ancora però domani la giornata della vigilia per i titoli mid cap star e growth poi non so quando riuscirò a preparare il video previsionale per il 2024 auguro a tutti un buon sabato e domani ovviamente ci faremo anche gli auguri di Natale e vi ho riservato anche qualche aneddoto sul mio Natale quando diciamo il destino di nobile decaduto era ancora molto lontano a domani a domani a domani a domani a domani Grazie.